Agliard in porta Noce, Cioffi, Benassi e Valeri in difesa, Campagna e De Feudis a centrocampo, Tortori, Fortunato e Alessandro alle spalle appunto del rientrante Gianni Ricciardo, lo schema il 4-2-3-1, si può cominciare, è cominciata Cesena, Vastese, il dessert della sedicesima giornata di campionato, Gianpaolo, solo omonimo dell'ex tecnico del Cesena, ancora Gianpaolo, se ne va lui, quasi al limite, il destro, Tortori se ne va lui, slalom speciale di Tortori, bravissimo, dentro l'aria Tortori, all'indietro, poi De Feudis con il destro, intanto coppa di testa di Ricciardo, molto bene, ha aperto le sue 4 ante, Alessandro, punta De Meio, cerca il cross, Ricciardo, poi gran parata di Selva, altro miracolo del portiere, intanto Tortori, lato corto dell'aria di rigore, il cross, il coppa di testa di Del Duca, poi d'Alessandro, allora De Feudis allarga Alessandro, dentro l'aria di rigore, cerca il cross, basso, l'uscita del portiere, poi Tortori, posizione regolare, ancora Tortori, il sinistro, Fortunato, 30 metri, ancora Fortunato, allarga bene, tocco morbido, Tortori, al limite, cross sul secondo palo, Valeri lascia spilare, allora Alessandro, posizione regolare, Alessandro, il destro sul primo palo, qui, un po' egoista, infatti, Ricciardo, lo avete visto, non ha preso benissimo il tentativo del compagno, è pronto il direttore di gara, soprattutto sono pronti Fortunato e Alessandro, Fischia, Cavaliere, va Alessandro con il destro, la deviazione di Selva, altro tiro in porta, interessante per il Cesena, andrà Michael Benassi con il destro, è pronto lui, cerca il destro, Benassi, palo rimbalza, Ricciardo, Gianni Ricciardo ritrova, subito il gol, si aprono le ali sotto la curva mare, Paperona di Selva, 1-0 Cesena, rivediamo, insidiosa, la punizione di Benassi, impietosa, invece, l'immagine che immortala il portiere Selva, ancora Danilo, contro 1, poi l'1, il cross, Ricciardo, il bis di Gianni Ricciardo, ancora, questa volta di testa, tutto facile per lui, tutto facile per il Cesena, 2-0, Con questo fanno 10, rivediamo, cioccolatino sontuoso, sulla testa di Ricciardo, andiamo a rivederlo anche dal basso, e beh, Palestini, in verticale per Leonetti, bravissimo, ottimo lo scarico, Fiore, quasi al limite, se ne va lui, è Mancino, Fiore con il sinistro, Agliardi, poi D'Alessandro con il destro, ancora Agliardi, poi Valeri, poi D'Alessandro, poi ancora Agliardi, c'è fallo, ai danni di Valeri, doppio miracolo Barriera piuttosto corposa da parte del Cesena, proprio al limite dell'area, Fischio arriva in questo istante, va Fiore con il sinistro, Agliardi, traversa e gol Si riapre la partita, rivediamo, traversa, schiena di Agliardi, se la palla non è entrata è autogol, sfortunato di Federico Agliardi, intanto Fortunato perde da Alessandro il pallone, ancora Fortunato per Alessandro, dentro l'area Il cross, Tortori, palo incredibile per Fortunato, Fortunato, c'è sempre Jacopo Fortunato sulle seconde palle, 3-1 Con le mani dentro l'area, liberissimo Alessandro, il cross, poi Tortori di testa, allora Fortunato, con il destro, gran parata di selva, paratona Si ricomincia, ora, in questo istante, Capellupo, riversa il pallone subito a tre quarti del Cesena, il Fiore, ottimo, il suggerimento per De Meio Dentro al campo il terzino della Vastese, poi da Alessandro, Schiba Cerca il sinistro, lato corto dell'area di rigore, il cross, basso, attenzione Fiore, deviazione Palla fuori Ancora Fiore, l'uno contro uno con Benassi, lato corto dell'area di rigore, il doppio passo, il cross, dentro l'area, colpa di testa, Agliardi Ma il Cesena non è sceso in campo, ancora Agliardi Fortunato, apre da quest'altra parte, ottimo il suggerimento per Alessandro, va in uno contro uno con De Meio Ancora Alessandro al limite, Alessandro il destro, sbaglia tutto, troppo egoista Stivaletta, dalla parte opposta, è libero Palumbo, centralmente c'è Schiba Qui c'è un tiro, attenzione, c'è fuorigioco Alessandro, punta De Meio, ottimo il suggerimento dentro l'area, Tortori, Tortori con il destro, Tortori 4-1 Cesena, eccolo qua, bentornato, Loris Tortori Bravissimo Tortori a farsi trovare tra le linee, a mettere il pallone sul piede preferito, rivediamo Cerca il destro, lo trova, deviazione di selva, non un destro irresistibile, ma comunque un destro nell'angolino 4-1 Cesena Non certo una novità, non un new entry in questo campionato di D Tanto qui cross, dalle parti di Schiba, la palla resta lì, poi Leonetti con il sinistro, Leonetti Ancora Campagna, quasi a 30 metri, Campagna cerca il tiro, forse anche deviazione di selva, non è così Pronto l'arbitro a fischiare 1-2-3, gioco, partita incontro, Cesena 4, Vastese 1, Cesena che sale, a meno 1 dal Matelica Ancora Campagna, quasi a 30 metri, a meno 1 dal Matelica